Sono trascorsi ormai due anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa, l'imprenditrice di Gello. Sono molte le segnalazioni arrivate sul tavolo della Procura di Pisa, una ultima, quella di una sensitiva. Qui ci troviamo esattamente a 400-500 metri dall'abitato di Castelvecchio di Compito. Siamo in una zona boschiva, alle pendici del Monte Serra, perché se guardi dall'alto c'è il Monte Serra, versante lucchese. Questo è il punto dove è stato scavato circa sei mesi fa con il Bobcat e con la protezione civile di Cappannori. Sono andati giù a circa due metri e forse anche qualcosa in più. La sensitiva di ieri è venuta, è stata 40 minuti in profonda riflessione, grande concentrazione. Io ero su, assieme alla nostra Gaia, qui era assistita da Donatella Raggini e ha detto guarda, non è qui ma è a 6, 7, forse anche 10 metri più sotto, sotto un metro di terra.